Ora, questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli mandarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti per domandargli, tu chi sei? E professò, e non negò, e professò, io non sono il Cristo. Gli domandarono, chi sei tu allora? Sei Elia? E gli dice, non lo sono. Sei il profeta? Rispose, no. Gli dissero allora, chi sei che possiamo dare una risposta a chi ci ha inviati? Cosa dici di te stesso? Affermò, io sono voce di uno che grida nel deserto. Raddrizzate la via del Signore, come disse il profeta Esaia. Essi erano stati mandati dai farisei. Costoro gli domandarono ancora, perché dunque battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Rispose loro Giovanni, io battezzo con acqua. In mezzo a voi sta colui che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, di cui non sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo. Questi fatti avvennero a Betania, al di là del Giordano, dove c'era Giovanni che battezzava.